Ho incontrato un angelo, mi ha preso per mano. Gli ho urlato con quanto fiato avevo, portami via, questo mondo non è per me. Ma lui mi ha riportato indietro ed accarezzandomi il viso, mi ha detto, non aver paura. E ho riguardato il mondo. Ogni volto, anche il più aspro, nascondeva un fremito d'emozione. Da ogni delusione nasceva un sorriso benevolo, un abbraccio fraterno. Dal dolore, dal rancore, dall'odio, nasceva per me l'amore. Ancora guardo il mondo, ancora mi spaventa, ma mi par di sentire una voce che dice Il Signore è ancora tra voi. Il Signore è ancora tra voi. grazie a tutti grazie a tutti